Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Last Haven, l'ultimo rifugio, insomma, mondo post-apocalittico con zombie e quant'altro. Ma, prima di tutto, desidero ringraziare il buon Silma che me lo ha regalato. Il gioco è su Steam da un annetto, da marzo del 2020. Costa 16€ il prezzo pieno, altrimenti è scontato mi pare sui 12. È in italiano, non è tradotto tutto, nel senso ho trovato un paio di oggetti non tradotti, però diciamo che è tradotto, lo definirei. Ed è quel classico gioco da cui si impara sbagliando e quindi perdendo la partita. Iniziamo la nuova partita, così vi faccio vedere. Ci sono tre scenari di inizio, dove si parte nella foresta, nel villaggio o nella città. Ci sono cose diverse. La prima, soprattutto, ci sono i suggerimenti, nelle altre no. Si può determinare quali sono i parametri iniziali, dalla temperatura, i soldati iniziali, le risorse iniziali. Iniziamo così com'è. Calcolate anche che, tolgo la sandbox mode, calcolate anche che dovrete sopravvivere più tempo possibile, soprattutto superare gli inverni nucleari. Quindi la temperatura, ora che, avete visto, abbiamo messo una temperatura alta nella foresta, da calcolare che la temperatura precipiterà di circa 15 gradi durante l'inverno. Potremmo decidere di partire in un modo piuttosto che in un altro, perché c'è la pannella della ricerca e quindi vedremo un attimo che cosa fare. Vi faccio vedere tutto ora. Se posso già farvi vedere all'inizio, avete qua in alto le risorse, il legno, la pietra, il metallo, i polimeri, il carbone, il carburante, le parti elettroniche, il cibo, le persone e queste, credo siano donne o bambini. Adesso non lo so. Prima cosa da fare è piazzare il magazzino. Adesso vi faccio vedere, questa è la zona iniziale. Qua ci fa vedere che ci sono delle zone. Possiamo iniziare a esplorare la zona, cercando oggetti abbandonati, cercare i torfei degli avversari sconfitti e così via. Questo è l'inizio. Qui è dove partiamo. Qui vediamo le persone. Abbiamo 29 persone senza casa, metto in pausa, disoccupati e disoccupati uomini e donne. Allora, la prima cosa da fare, come ci dice il gioco, è di costruire un magazzino. Il magazzino, vedete, lo possiamo piazzare. Possiamo mettere, ad esempio, qui. Così. E le persone inizieranno subito a costruire. La segheria è legna di quelle parti principali della struttura dell'edificio. Direi ai lavoratori di portare la segheria vicino alla foresta. Quindi possiamo andare. Vedete che adesso si sono sbloccati un po' di edifici. Andiamo a mettere la segheria. La segheria la mettiamo vicino al boschetto della mia fantasia. Cioè, qui. E inizieranno anche loro a costruire. E poi andare a recuperare un po' di cose. La serra. La gente ha bisogno di cibo. Costruisci una serra. I coloni saranno in grado di coltivare i ortaggi in essa. Non dimenticare di monitorare la temperatura. In una serra non puoi coltivare verdure a bassa temperatura. Costruisci la serra vicino al magazzino. Che è una cosa più comoda. Infatti avevo già lasciato lo spazio qua vicino. Quindi la andiamo a piazzare qui vicino al magazzino. La stazione dei materiali di recupero invece è una cosa interessante. Perché ci viene data la possibilità di prendere... Ah, scusate che... Adesso il gioco ci sta presentando quella che è una particolarità davvero molto interessante. Che è quella dei soldati. Adesso ve la faccio vedere. Come potete vedere in alcune zone ci sono degli oggetti. E noi andando a costruire questa stazione di materiali di recupero vedete che ce li va ad evidenziare. Quindi è una sorta di edificio provvisorio, credo, perché poi andrà distrutto. Che va in automatico a raccogliere tutto quello che c'è intorno. Potremmo trovare auto, potremmo trovare altre cose. Vedete qua c'è un altro edificio. Il laboratorio invece è molto importante perché ci permetterà di aprirci il mondo della ricerca. E quello ve lo farò vedere a brevissimi. Intanto inizio a metterlo qui. Ora, nel mentre i nostri personaggi costruiscono, vi faccio vedere anche quelli che sono i soldati. Che sono questi. Ne abbiamo 9 su 100. Vedete che... Il bello è che li possiamo muovere. Sono l'unica unità che possiamo muovere. E tra l'altro andando a selezionarne alcuni, possiamo fare CTRL 1. E creare il gruppo 1. Vedete che hanno il numero 1 vicino. Tutti questi hanno l'1. E poi posso fare la stessa cosa con questi, con il numero 2. Adesso io premendo 1 e 2 vado a controllare i diversi soldati. Intanto ci sono degli eventi ogni tanto che partono. Dove si parla di zombie insomma o di altre cose. Il gruppo 2 è lì. Il gruppo 1 magari lo mettiamo qua. Vedete, li possiamo mettere, vabbè, modalità di fuoco lunga, grafica lunga. Lanciare granate, gli è permesso. Automatico ricarico delle armi. In piedi, bassi o proni. Ricaricare. Abbiamo la possibilità di equipaggiarsi. E li abbiamo abilitati il fuoco. Loro inizieranno a scavare per conto loro per difendere la zona. Mentre intanto tutti gli altri lavoratori continuano e fanno i loro mestieri. Quindi, adesso, tra poco, si sente anche il contatore Geiger perché comunque ci sono gli zombie. Quindi sarà molto molto importante difendersi. Le costruzioni ce ne sono diverse. C'è la strada livello 2, livello 3, la farma, la produzione di carbone, la cucina, la fabbrica 1, la fabbrica 2, il centro scientifico, il centro scientifico 2. Vedete che ogni struttura ha una temperatura limite. La capanna, le case, le caserme, il bar, la chiesa, la prigione, il portapillo, le catarie d'ottomale, che sembra una guardiola, insomma, ce ne sono di varie cose. Propaganda, il patibolo, le varie torri di guardie, i muri, la casa di caccia e la casa del mercante. Qua sotto c'è un parametro molto importante, la stabilità. La stabilità viene influenzata da quello che noi decidiamo di fare nel caso in cui dovessimo prendere una decisione riguardo a qualche evento di gioco che parte. Intanto io volevo prendere un soldato e mandarlo di qua. Vi faccio vedere un pochino come funziona. Perché poi potremmo andare anche a vedere delle altre zone fuori dalla mappa, lontano, con quelle idee ruotate, come vedete, però non si va oltre qui. Perché si può andare ad esplorare delle zone vicine facendo una ricerca apposita. Vedete che in questo caso adesso qua è tutto chiuso. Non credo si possa andare oltre, però vabbè, intanto ve lo faccio vedere. Come dice, anche adesso non ricordo se ve l'ho letto, però potremmo decidere, sbagliando appunto, di concentrarci più su una cosa che su un'altra. Ma il discorso vi sarà chiaro una volta che avremo fatto la ricerca che vedete scritto male. C'è la doppia R e lì va bene, non è un gran problema. Cliccando sull'edificio abbiamo la possibilità di upgradare, però è richiesta una ricerca. All'interno ci sono le risorse che verranno raccolte e le persone impiegate per il lavoro. Intanto qua ci viene dato un altro tutorial. Ok, vedete, qua ci sono delle persone. Posso accettarli portando la stabilità a meno 10, cioè abbassandola di 10 o rifiutare. Io li accetto così si uniscono a me. Abbiamo ancora più persone da sfamare. Insomma, bisogna tenere ad occhio il cibo. Vedete, adesso abbiamo un più 3 perché abbiamo la serra lì. Qua è il magazzino con quello che è contenuto all'interno. Qua abbiamo il centro scientifico che è molto importante perché ci sblocca questo pannello. Il pannello di ricerca ci dà accesso a 4 rami di ricerca. La scienza, quindi la scienza che poi ci sblocca la migliore efficienza sul lavoro. L'adressamento militare. Fornisce l'accesso poi ad altre cose, tra cui anche la caserma. Integratore alimentare per aumentare il contenuto calorico delle coltivazioni. La serra invernale, molto importante. Ora ci concentreremo su altro giusto per farvi vedere un po' che non funziona. Ma calcolando che arriverà il... Qua ci sono anche i rad, insomma, come si chiamano le radiazioni. Siamo al giorno 2, 15 gradi. Ovviamente le stagioni passano e arriverà l'inverno nucleare. Quindi quando arriverà l'inverno nucleare, se non avremo questa serra qui invernale, sarà un bel casino. Mentre invece qui abbiamo la sopravvivenza con munizioni, maschera antigas, elmetti, vari, fino alle granate, fino ai fucili, varie cose, munizioni pesanti. E poi abbiamo una politica che ci permette di andare ad agire direttamente sulla stabilità della nostra colonia. Abbiamo il patibolo. Io voglio fare una cosa però. Voglio fare... Adesso mi ricordo, era questa. L'esplorazione. L'esplorazione la andiamo a ricercare. Possiamo andare ad accelerare un pochino il tempo, però è tutto determinato in base alle ore del giorno. Qua sotto abbiamo le persone che sono affamate, che stanno diminuendo perché stanno mangiando. Intanto vedete che io adesso ho accelerato il tempo, quindi è veramente troppo veloce. Adesso lo abbasso normalmente. Si dividono, diciamo, in due cose. Almeno tra quelli che ho visto. Due tipologie di nemici. Due categorie. Due cose. E una sono gli zombie e una sono gli animali salvatici. Mi è sembrato di notare che sulla mappa vengono indicati in rosso gli animali... Gli zombie. E in arancione gli animali salvatici. Ma potrei anche sbagliarmi perché alcune volte ho visto in arancione anche gli zombie. Comunque. Vedete adesso qua sulla mappa è segnato in arancione ed è una sorta di cinghiale radioattivo perché è una cosa molto strana. Sembra uscito da... Da, non so, World of Warcraft forse. Comunque mi ricorda diversi giochi da Inward a quell'altro gioco di cui non ricordo mai il nome che in pratica dove si va a costruire questo reattore e bisogna sopravvivere al gelo. Mi ricorda diversi giochi. È particolare il fatto che comunque si possono controllare le unità militari manualmente. ma poi se vedete su Steam ci sono altre schermate ancora dove si guidano auto insomma ci si sposta adesso l'obiettivo sarebbe quello di andare a accelerare un pochino i tempi e vedere come funziona la mappa perché con la mappa possiamo spostare le nostre truppe in altre zone ovviamente partendo dalla città avremmo avuto un ambiente completamente diverso e probabilmente già qualche mezzo per muoverci. Comunque uno dei potenziamenti che poi si dovrà fare è abilitare il riscaldamento nelle case perché quando l'inverno arriverà e io intendo inverno nucleare quindi un inverno di ben altro tipo sarà molto difficile sopravvivere senza delle case riscaldate. Comunque abbiamo 5 ore ancora alla durata dovrebbe andare a ristabilizzarci la stabilità appunto questa ricerca e sbloccarci con 48 ore di ricerca l'esplorazione invitare le unità per raccogliere le risorse in altri luoghi perfetto adesso l'abbiamo ricercata credo sia finita quindi possiamo andare a ricercare questa che durerà 48 ore quindi acceleriamo un pochino il tempo vedete intanto le unità militari che sono qui graficamente gradevole da vedere siamo tornati con il cibo messo piuttosto bene loro intanto continuano a difenderci dagli zombie ho indicato in arancione anche con lo zombie lì dobbiamo organizzare meglio le difese perché vedete che questi ne metto due qui scusate seleziono questi due qui li metto qui così li proteggo ed ha anche un non so che di tower defense perché comunque o stanno arrivando sempre più animali selvatici abbiamo già perso un soldato tra l'altro poi cliccando col sinistro possiamo deselezionare le nostre unità allora 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 aspettiamo aspettiamo intanto magari adesso acceleriamo un attimino attendendo che le 28 ore della ricerca passi noi prevediamo potremmo iniziare mentre aspettiamo questo è una capanna è iniziare a metterle qui così diamo rifugio a un po' di gente non so se effettivamente andrà a coprire tanta gente ma non credo perché la capanna dà posto per 5 persone la casa a livello 1 e dà di 10 fino ad arrivare alla casa a livello 4 che ne dà alloggio per 20 abbiamo un bel po' di cose abbiamo un bel po' di persone senza casa perché abbiamo 39 persone e tra l'altro sta anche piovendo ora abbiamo qualcuno che si è fatto male uno dei nostri residenti è stato infettato ah ok e anche qui they are billions ecco riprende anche da quel gioco lì infatti è stato percorso malamente eh sì 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 vabbè intanto vediamo la costruzione della casa riacceleriamo il tempo perché è un gioco che non va preso sicuramente alla leggera bisogna proprio goderselo pian piano e soprattutto capire dove si sbaglia però lo trovo sicuramente più intrigante di quegli altri Endzone e Surviving the Aftermath così a impatto insomma mi sembra proprio un mini mini capolavoro questo sarà da vedere perché è già uscito da un anno e loro hanno detto che tra cioè resterà in nearly access da 1-2 anni quindi boh sarà da vedere la ricerca intanto l'abbiamo completato vedete ora avremmo anche abbiamo riportato la stabilità ma questo era già con l'obiettivo dopo abbiamo sbloccato la mappa e abbiamo la ripressione un aumento una tantum della stabilità più 25 e sono cose un po' così però poi ci porteranno al carcere ok allora intanto guardiamo come funziona la mappa vedete che abbiamo la nostra casa e poi abbiamo la stazione di benzina la fattoria il villaggio fattoria andiamo al villaggio possiamo scegliere il numero di combattenti che vuoi inviare alla ride ne invio 4 il numero di veicoli che desideri inviare alla ride nessuno mi piacerebbe trovare un veicolo quindi andiamo al villaggio per questo andiamo l'invio vediamo un attimino come funziona se torneranno con qualcosa di utile il gruppo da battaglia arriva a destinazione del villaggio attraverso 95 ok intanto la ricerca la possiamo portare avanti andando a cercare la ricerca scientifica ok intanto bisogna accelerare nuovamente il tempo so che questo non è il modo di giocare perché bisognerebbe concentrarsi molto di più sulle varie cose quindi completare le varie costruzioni ma non è questo l'obiettivo l'obiettivo è far vedere il più possibile del gioco almeno così come inizio ok questo il gioco ci sta vedendo che c'è un evento che scade in 168 secondi dobbiamo a volte vabbè lui verrà probabilmente percorso esatto però ci sono esempio eventi come questo dove io ci clicco sopra e devo prendere una decisione vediamo un attimo una delle nostre persone ha sentito parlare di un piccolo gruppo di sopravvissuti vicino al campo siamo in grado di inviare una spedizione invia due persone vediamo che succede abbiamo preso questa decisione è notevole il fatto che comunque sia stato tradotto il gioco piuttosto bene devo dire per quanto magari vedete qui hand grenade manca proprio la descrizione però ci sta insomma intanto vediamo che cosa succede al villaggio perché dobbiamo aspettare ovviamente che si arrivi alla fine non abbiamo sbloccato altre costruzioni al momento però stiamo facendo la ricerca quindi la ricerca sta andando avanti 12 ore alla fine della ricerca diciamo che giocandolo così di fretta calcolate che rispetto all'altra partita che avevo fatto aggiungo altre due persone qua perché abbiamo perso probabilmente due lavoratori calcolate che avendo fatto le cose così di fretta ho già perso due persone infette mentre nella mia prima partita nessuna intanto il gioco ci sta richiamando verso qualcosa un mercante è entrato nel nostro campo fare trading sì a fare vediamo ci vende ci vende il magazzino il rivenditore no dovremmo dargli noi qualcosa il rivenditore il magazzino abbiamo maschera antigas possiamo vendergli qualcosa no basta così poi sicuramente non è un gioco innovativo non è un capolavoro però mi piace molto devo dire che è fatto bene ed è molto difficile l'unico dubbio che ho è già un anno che è in early access quindi ne resterà almeno un altro magari usciranno in corso di quest'anno sicuramente entro l'anno prossimo sarà da vedere quanto è profondo come meccaniche perché non c'è possibilità di costruire possiamo solo costruire gli edifici già preimpostati sono parecchi però non ci sono altre schermate qua quindi sarà da vedere un attimo se ci sarà dell'altro intanto intanto acceleriamo il tempo se clicco sul soldato mi dà il suo equipaggiamento vedete che potete andare abbiamo ricercato la ricerca scientifica ora abbiamo la possibilità di fare la ricerca scientifica secondaria oppure andare a sbloccare uno di queste cose io faccio l'alimentare perché mi porto già verso la serra invernale 48 ore 68 ore mancano il gioco continua comunque a riportarmi appena succede qualcosa ha una velocità normale di gioco non ha il per 3 però vabbè adesso aspettiamo intanto vediamo se tutti stanno lavorando come devono lavorare quello è infortunato ma calcolate che i feriti i malati vanno tutti nella tenda medica che si sblocca nella sopravvivenza sopravvivenza che vedete qua ci dà la riqualificazione degli edifici quindi con le stufe riscaldanti e poi la possibilità di aumentare il riscaldamento domestico del 10% poi ci dà l'accesso alla casa 1 l'isolamento termico cioè è una cosa che è bellissima ma sembra un po' fuori luogo per questa ambientazione zombie ma in realtà non lo è così tanto perché comunque si parla di resistere a delle temperature che via via stanno diminuendo vedete che adesso qua abbiamo 13 gradi probabilmente arriverà lo 0 una volta che arriverà l'inverno intanto siamo tornati cambiano anche questi che non so che unità di misura sia ma vabbè intanto vediamo che è arrivato qualcuno accetta i rifugiati sì dai ci uniamo facciamo unire altra gente abbiamo abbassato un pochino la stabilità però va bene qui ci dice più 11 purtroppo poi è coperta questa scritta comunque vabbè intanto abbiamo 4 soldati perché 4 li abbiamo mandati a fare la spedizione ormai mancano 52 ore alla fine quindi acceleriamo il tempo attendiamo un attimo e vediamo che cosa succede il gruppo inviato alla ricerca è tornato con due persone ok che era il villaggio quello vicino quindi in pratica abbiamo due persone adesso abbiamo 3 affamati e stiamo producendo comunque abbiamo quasi finito il cibo a dire la verità 38 ore comunque alla fine della ricerca dell'invio in spedizione là al villaggio quindi speriamo che vada tutto bene vediamo un attimino che cosa succede rimaniamo in attesa anche se qua c'è un evento andiamo a vedercelo subito vediamo cosa succede perché adesso stiamo anche migliorando l'efficienza quindi allora uno dei residenti chiede di lasciarlo andare in cercare il suo cane lascialo andare e lascialo andare e poi viusci ad andare via no ti lascio andare ma non ti do da mangiare infatti tuoi arrivederci va bene quell'evento lì è andato niente continuiamo l'attesa abbiamo completato la ricerca intanto ho messo in costruzione anche una seconda serra in modo da aumentare un pochino perché qua e adesso cerchiamo la serra invernale ok abbiamo un'altra ricerca e quindi poi potremo sbloccare l'edificio della serra invernale che sarà probabilmente questa è riscaldata ok non mi pare ci sia qualcosa per produrre energia quindi l'energy management non c'è la power non c'è c'è il fantoio per pietra estrarre la pietra è progettato per quattro ah vicino a pile di carbone ok cosa che non abbiamo minimamente guardato ma ovviamente questo gioco questo video su questo gioco è fatto esclusivamente per crearvi un po' di curiosità perché poi si può sempre comunque decidere di approfondire dei perdoni sono arrivati al vostro villaggio possiamo andare al cibo in modo che vadano via li corrompo con del cibo ma sono solo in due quindi li attacco allora soldati mettetevi qua rapidamente e vi mettete bassi no in piedi tutti e venite tutti qua speriamo che non entrino da un'altra parte ok vediamo acceleriamo un po' il tempo eccoli che arrivano di là si vedono qua sotto si vede la testa lì dei soldati che arrivano dovrebbero arrivare da lì si vedono supereranno il cancello credo li aspettiamo intanto mancano sei ore per completare il viaggio eccoli che arrivano ma stanno stanno anche lanciando bombe la squadra nemica è completamente distrutta perfetto siamo sopravvissuti tutti e abbiamo portato via un po' oh la beretta ecco un'altra cosa che mi avevo dimenticato ci sono degli oggetti a terra che è possibile cliccare e prendere vedete delle armi degli oggetti quelli non vengono raccolti cioè diciamo che tutto quello che è smeltabile non è raccoglibile a mano però si parla di edifici di questo tipo ok loading battle vediamo vediamo perché adesso stiamo giocando la parte invece nella città quindi ci prendiamo la nostra squadra e ci muoviamo in città questa è una una figata ed è esattamente come me lo aspettavo perché poi potremo usare degli oggetti muovetevi bassi grazie muoverci con delle auto e con i mitagliatori sopra signori sparate niente non c'è bisogno no time for cushion sparate guardate questo c'è un sacco di gente ma siamo noi che stiamo sparando come dei pazzi ok preso l'arma un p90 siamo tutti un po' feriti a dire la verità fuggite giochi sparate tutti contro questi lì ci sono dei mezzi possibile eh siamo già praticamente morti quindi ce la siamo giocata proprio male direi questa proprio molto male ce la siamo giocata ritirata ritorno alla base sconfitti siamo morti tutti in battaglia quindi abbiamo visto un'altra meccanica che è veramente molto molto carina di quanto riguarda l'esplorazione la mappa insomma sappiamo che il villaggio sono molto agguerriti la fattoria ah ok sono un piaudario perché me lo diceva nemici 15 numero di veicoli non ne abbiamo quindi dovremmo avere dei veicoli al momento ignora come si faccia ottenere dei veicoli comunque la stazione di benzina e quella più vicina ha 10 nemici dorata al viaggio 36 ore è abbastanza tosta vediamo un po' se la fattoria aveva 10 nemici 36 ore si niente comunque comunque The Last Haven l'ultima l'ultimo rifugio gioco davvero molto carino molto promettente vedete io adesso l'ho giocato e accelerando fino all'ottavo giorno giocando male siamo messi male perché al momento abbiamo i cittadini che si stanno difendendo per conto loro perché i soldati non ci sono più ce ne sono 4 che sono qua qua davanti che non danno più neanche una mano perché sono lontani probabilmente degli infetti e un sacco di gente vabbè che si sta lavorando sta recuperando legname abbiamo un botto di legname e pochissimo cibo e stiamo per porre fine alla nostra esistenza giocandolo invece più lentamente come andrebbe giocato e studiando meglio come crescere può dare delle buone soddisfazioni l'unica cosa di cui io non sono fan sono le meccaniche tower defense che non mi piacciono nel senso il fatto di dover studiare da dove possono arrivare i nemici non è una cosa che mi fa impazzire però sicuramente questo è un gioco che sembra essere davvero davvero molto molto profondo ringrazio ancora Silma per avermelo regalato spero sia piaciuto anche a lui con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao